Chiudiamo questo lungo ma molto interessante giuritavolo con Gianni Russo, la WISC, a cui chiedo un sforzo particolare di sintesi. Gianni si è molto parlato dell'integrazione delle conoscenze, voi siete uno dei stakeholders principali per realizzare azioni davvero efficaci e c'è bisogno anche di molti saperchi al basso e soprattutto di più o meno vivere tutti i giorni. Grazie anche a OCI per questa occasione importante, insomma con OCI c'è una collaborazione di antica data, non solo OCI, ma anche con gli amici del WF di Degambiente, io qui rappresento la WISP del settore ambientale, in particolar modo sono referente della WISP al Pavia. Noi, i nostri praticanti, tra le varie cose, fanno l'attività di discesa pluriale e quindi scendono i fiumi non solo in Italia ma altrove e quindi noi ci riteniamo portatori di conoscenze particolari, siamo sempre non tecniche, siamo sostanzialmente un gruppo particolare di cittadini che fanno comunque pratiche di conoscenza del territorio. Le nostre attività ci portano, non sono un grado di fare inconsciamente ad avere una visione sistemica del fiume, noi scendiamo in sostanza quasi l'intera idrografia nazionale, aspettiamo di oggi a scendere i tratti alti dei fiumi, così come i corsi in me, ma anche la parte delle parti di pianura, sviluppando una conoscenza, competenza e capacità che ci piacerebbe mettere a disposizione delle istituzioni perché potremmo anche essere noi in collaborazione con tante altre esperienze associative, soggetti portatori di proposte. Noi vediamo sui fiumi effettivamente i risultati di quanto si è detto, anche le peculiarità, le prerogative del territorio, il paesatrio frugiale che è una caratteristica del territorio, fatto anche di bellezza, di scocci, di bellezza intima che assolutamente c'è dal fiume, ma anche molto evidente la contraddizione del territorio, la mancanza di una sistemicità, di una visione sistemica del fiume, le contrapposizioni delle competenze, l'intimamento e da adesso qui noi rispettiamo in questi convegni e siamo in questi raccordi sui massimi sistemi, però voglio ricordare che il Ministro dell'Ambiente ha approvato la costruzione di quattro dighe nel raggio di 20 grovi sul Tevere sotto Orto, insomma anche queste sono contraddizioni che vanno risolte. Detto questo, noi crediamo nei percorsi di partecipazione all'interno del territorio, in particolar modo nei contratti di fiume, siamo sperimentando con gli amici del CIR, con l'ambiente, con le WF e con le amministrazioni locali, dei percorsi che gradualmente mettono insieme, mettono a rete le conoscenze del territorio, perché secondo me è un elemento conoscitivo, una mappa rappresentativa delle conoscenze del territorio e anche del valore non solo politico, quello identitario, perché le nostre comunità riparie, sono comunità fluviali antiche che sono nate grazie ai fiumi, si è persa un po' questa memoria, noi qui siamo nella capitale d'Italia che è un'antica comunità fluviale che ha perso la memoria dei suoi fiumi e poi lo ha provato, non c'è se vuol dire, ci sono tanti altri rivoli che confluiscono in quello che è l'elemento fondamentale del fiume, ma le comunità hanno perso questa consapevolezza, per questo il problema dei cittadini che non riconoscono, non hanno consapevolezza della complessità dei problemi del territorio, con le nostre attività noi cerchiamo di crearla questa consapevolezza e auspichiamo appunto un coinvolgimento istituzionale delle nostre esperienze, un'esperienza di cittadinanza attiva a tutti i deputati. Grazie per la capacità di sintesi.